Renault dota Zoe la berlina compatta 100% elettrica più venduta in Europa di una nuova batteria ZE40 Questa innovazione consente a Zoe di raddoppiare l'autonomia, ampliando le sue possibilità di utilizzo pur restando il veicolo elettrico più accessibile del mercato 400 km dichiarati che equivalgono a 300 km nell'utilizzo reale, urbano e periurbano Un ulteriore passo in avanti nella strategia di Renault per lo sviluppo su larga scala dei veicoli a zero emissioni Un freno psicologico in meno per coloro che hanno esitato nella scelta di un veicolo elettrico Da oggi si potrà partire con Zoe per il weekend e andare al mare senza bisogno di effettuare una ricarica durante il viaggio Con la nuova batteria Zoe è il veicolo 100% elettrico per il grande pubblico che va più lontano con un'unica carica La batteria ZE40 sviluppata in comune da Renault e LG è frutto di un'importante innovazione L'aumento della sua densità energetica che consiste nella crescere la capacità di stoccaggio della batteria senza aumentarne l'ingombro e con un incremento di peso davvero contenuto Parallelamente all'autonomia raddoppiata, Zoe è proposta nella nuova versione Zoe Bose per i clienti alla ricerca di prestazioni esclusive Con una tinta dedicata a grigio itrio, selleria in pelle premium e nuovi cerchi da 16 pollici, nero, diamantato, banca, Zoe Bose punta l'eleganza A completare l'esclusività della versione, il sistema audio premium Bose che comprende 7 altoparlanti ed alte prestazioni per la diffusione di un suono ricco ed ampio Pioniere nella mobilità 100% elettrica, il gruppo Renault resta a tutt'oggi l'unico costruttore a proporre una gamma completa di veicoli 100% elettrici ad un prezzo accessibile Dalla Citycar Zoe al veicolo commerciale Kangoo ZTE, passando per il quadriciclo urbano Twisi Chiunque potrà trovare il modello più adatto alle proprie esigenze Leader del veicolo elettrico in Europa, Renault incoraggia lo sviluppo della formula elettrica Disciplina in cui si affrontano un oposto 100% elettriche nel cuore di città del mondo intero Forse non mi riconoscete perché d'abitudine tengo il casco Io sono Nico Cross, sono pilota della Renault Dams nel campionato di Formula E Cioè il campionato di monoposto elettriche La macchina elettrica secondo me è il futuro La nostra planeta ha molti problemi Sappiamo che l'inquinamento è un problema maggiore E penso che lo sport deve spingere nel senso storico Vedere delle gare di macchine elettriche è molto interessante Per rendersi conto che è una vera macchina Nuova Renault Zoe, brio e serenità per raggiungere mete ancora più lontane Per rendersi conto che è una vera macchina